Sono solo ciance, per usare una espressione di Manfellotto, quelle di Salvini, magari per pararsi un po' a destra perché soffre evidentemente la concorrenza di Meloni o c'è il rischio che a lungo andare il sostegno a questo governo possa essere messo in discussione? Io non credo che sia mai messo in discussione, perché il problema è tornando alla domanda che faceva Letta a Salvini, deve spiegare perché sta appoggiando il governo Draghi, io ne vorrei una Letta, perché ci avete messo un anno per tirar fuori un governo diverso da quello che era prima? Tenendo conto poi diciamo delle... perché prima o poi dovremmo pure spiegare senza nessun tipo di ideologia o partita presa gli errori che sono stati fatti in questo anno. Io lo ripeto, noi siamo arrivati così anche per gli errori fatti, cioè non si può immaginare dopo un mese e mezzo di mettere quello che è stato fatto in peggio, diciamo, sulle spalle di qualcun altro. Questo è il dato. Quanto abbiamo speso per i ristorici? Quanti ne sono arrivati di quei soldi, di quelle risorse? Perché abbiamo speso 200 miliardi all'incirca. Allora il punto qual è? Dove si è sbagliati? Dove è che la macchina si è fermata, la macchina dello Stato e via dicendo? Questo è il punto. Poi fra sei mesi parleremo anche del governo Draghi, però intanto parliamo di questo, perché il problema è esattamente questo e dobbiamo evitare di fare gli stessi errori. Ma sono poi cose evidenti, ti ho detto, nel senso, basta vedere, le prime le poi sono state fatte o no, io non lo so, perché poi tutte le cose che sono state dette nell'immaginario di Casalini, io poi non ho capito quello che è stato fatto, non è stato fatto quello che è stato detto e basta ed è rimasto lì. Allora, il punto è che bisogna ripartire con molto pragmatismo, e io sono d'accordo con Bruno, cioè lasciamo parte, perché non è per nulla la fase delle polemiche. Se uno ha creato un governo, tra virgolette, di unità nazionale, era proprio quello, diciamo, per partecipare, togliere ogni tipo di teologia e metterci molta competenza e molto pragmatismo. A quanto ci consta le primule non verranno realizzate, però il concetto del hub importante nel quale convergono tante persone per vaccinarsi, quello dovrebbe restare. Una prima una costava 410 mila euro. Allora, se avevamo una serie di strutture tipo queste, che potevano evitare quella spesa e di perdere tempo e fare, diciamo, 10 conferenze stampi, io avrei fatto quello, no? Andiamoci in una di quelle strutture.